Bene ragazzi, ci siamo. ECMA è iniziata e questo è il video dove vi presento le maggiori novità, quindi venite con me. Iniziamo con Honda, la nuova Hornet è sicuramente una delle protagoniste. Finalmente ecco dal vivo la nuova Hornet 750. In questa versione, come potete vedere, ha già qualche accessorio come i tamponi paratelaio, lo scarico SC Project e vi devo dire che dal vivo ha proporzioni nettamente migliori rispetto a quanto si evince dalle foto. Novità assoluta di quest'anno dalla casa giapponese, il 160 al posteriore è molto equilibrato con la linea generale della moto e soprattutto abbiamo il nuovo motore 750 cm3 di cilindrata con 95 cavalli. Non vedo l'ora di salirci sopra, però venitela a vedere in attesa della prova completa. Ed ecco anche la tanto attesa Transalp 750. Parte dallo stesso motore della Hornet 750 con la stessa potenza, 92 cavalli, 208 kg di peso, display TFT, altezza da sella 85 mm, ruota anteriore da 21 pollici e ruota dietro da 18 pollici. Insomma, si sente che questo è un segmento che al pubblico piace. Quindi, mototurismo tigliano, cosa ne pensi della nuova Transalp 750? Allora, io essendo l'ultimo possessore, penso fortunato di avere il V-Strom e l'Apsus Fridiano, che è anche quello vuta, Transalp 650, questo 7,5 mm ha tutti i canoni della vecchia Transalp. Un paro, una moto che sicuramente non farà bene tutto, però già vale il 208 kg col pieno di benzina, buona escursione, 92 cavalli, è un po' secondo me la Transalp che tutti volevano. Che poi dicono le linee, non le linee, bella, cinesata, ragazzi, le moto vanno provate. Esatto, esatto. Allo stand di Zero Motorcycle c'è anche la nuova Zero DSRX, ovvero la nuova Adventure elettrica, con un'autonomia dichiarata di circa 290 km. Davvero tantissimi, sarei tanto curioso di provarla e vi anticipo, magari qualcosina sta arrivando. Guardate anche la Zero DSRX con l'ivrea polizia locale. Ciao ragazzi, un saluto da EICMA 2022, da Francesca e Alessia. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Un bacio. E attivate la campanellina delle notifiche. Questa invece è la nuova Da Vinci e vi ricorda qualcosa? Beh, si ricorda assolutamente una Diavel. È interessante questo concept, ragazzi, accettiamolo. A EICMA ci saranno tantissime moto elettriche, gommone posteriore da ben 240, esattamente la stessa misura del Diavel. 400 km di autonomia, velocità massima di 200 km orari, ma udite, udite, 850 Nm di coppia. Raga, 850 Nm è a livello delle Brabus, delle Ferrari, delle Lamborghini e dei Yammer. È una roba incredibile su una moto. Ci vediamo, voi che state vedendo il video giovedì, sabato pomeriggio, il 12, paviglione 13, stand Q56 allo stand SVMotec. Sarò lì dalle 14 alle 16.30. Per fare due chiacchiere, bere un caffè e scambiare due opinioni con voi. Questa è forse una delle più recenti novità di Ducati, ovvero la nuova Diavel V4. E vi faccio vedere, ovviamente, il posteriore. Guardate quanto è possente. Il motore da 240 e soprattutto il quadruplo scarico perché adotta il nostro motore V4 con 170 cavalli. Ridisegnato completamente il codone senza però abbandonare la tradizione della famiglia di Avel. Con illuminazione completamente a LED. Una firma davvero particolare e davvero molto molto bella. Prezzi a partire da 26.690 euro. Ma con gli accessori che qui iniziate a vedere, come parafango in carbonio, cupolino in carbonio e tanto altro, beh, questo lievita e anche non di poco. Ovviamente ve la faccio vedere anche dalla parte anteriore. Firma a LED, faro ridisegnato, ma ripeto, senza abbandonare la tradizione, davvero imponente massiccia. Secondo me è una delle moto più personali sul mercato. A EICMA arriva anche tutta la nuova famiglia di Scrambler di Ducati. colori giovanili, linee ancora più giovanili e si aggiornano soprattutto con alcuni accorgimenti tecnici. Per esempio il Mono è stato spostato verso la porta centrale e tutte hanno il nuovo TFT a colori. Ovviamente non mancano la Desert X, anche in questa bellissima livrea nera, bianca e rossa con barre paramotore. Venitela a vedere, è davvero carina dal vivo. Hypermotard SP 950, ovviamente c'è la moto campione del mondo, grande pecco ancora una volta. La Panigale V4R della Superbike, anche questa bellissima, ma sembra un giocattolino rispetto alla MotoGP. E la nuova MotoE, 150 cavalli per 225 kg di peso. Panigale V4R 2023 da 43.990 euro. Street Fighter V4 SP2, nuovo Monster SP con sospensioni completamente regolabili. E ovviamente il Multistrada V4 Pikes Peak con entrambe le ruote a 17 pollici e un carattere davvero sportiva. Un sacco di confusione per la Supermator di Royal Enfield, ma ci passiamo dopo. E' quella che secondo me è una delle maggiori novità, anche perché è quasi del tutto inaspettata, ovvero la Fantic Caballero 700. Riprende alcune delle caratteristiche della famiglia 500, tanta apprezzata e rimanete sintonizzati. Pedane ricavate dal pieno in alluminio CNC, tanti particolari dettagliati. Il motore, beh, se vedete il mio canale lo riconoscerete. E' il CP2 di Yamaha, però un po' modificato da Fantic per raggiungere 75 cavalli. E soprattutto tre mappature dedicate. Schermo TFT a colori e poi un omaggio all'Italia, anche con tutte le altre componenti. Tra cui gli ammortizzatori con forcella Marzocchi da 45 mm completamente regolabile, mono sempre Marzocchi completamente regolabile e freni Brembo. Un freno anteriore che ha un diametro di ben 330 mm. Prezzo, hanno detto, meno di 10.000 euro. Io azzardo un 9.999 euro e non vedo davvero l'ora di provarla. Complimenti a Fantic per il bellissimo lavoro. Non manca tutta la famiglia di caballero Scrambler, Deluxe, Rally, Explorer, chittata con paramani, borsa da serbatoio, borsa laterali e portapacchi. Questa è la Fantic XEF Rally Factory, nata per le corse. E' un prototipo da competizione davvero bellissimo da vedere, anche questa con doppio serbatoio. Patiglione Triumph, la più grande novità. Una moto tanto tanto attesa, ovvero la Street Triple Moto 2. Rinnovata in tutte le parti, le più grandi differenze rispetto alla Street Triple RS ed R sono i semi manubri. Una bellissima piastra di sterzo lavorata, farò una macro, ve la faccio vedere, con numerazione perché è una serie limitata. A partire da 15.395 euro ci sono 765 modelli per la versione bianca e 765 modelli per la versione rossa in tutto il mondo. Quindi se la volete affrettatevi. I semi manubri ovviamente consentono una guida più sportiva. 130 cavalli, sospensioni completamente regolabili. All in se per quanto riguarda la forcella è mono completamente regolabile anche al posteriore. Ovviamente c'è la cover monoposto ma come potete vedere è una moto completamente stradale. Pensate che figura fare in cima al passo con questo e a mio parere pochi riuscirebbero a starvi dietro. Forse è la moto migliore per scannare sui colli per strada. Vicino alla più estrema Moto 2 che in pochi potranno permettersi, anche se il prezzo non è così esagerato per la componentistica e per la moto, arrivano anche la nuova versione RS che abbandona le holly in sala anteriore per delle showa. Mentre la Street Triple S lascia spazio alla Street Triple R che diventa quella di accesso. Scompare una versione depotenziata perché c'è già la Trident. Da Orwin si sono immaginati la Goldwing del futuro. Niente male, c'è anche una specie di VTN tipo Moto Guzzi. Siamo con Elisa Mazzucchelli. Cosa ti aspetti da ECMA quest'anno? Ma purtroppo mi aspetto molti più mezzi elettrici, però io ovviamente preferisco i due tempi. Come vedi sono seduta su un'icona degli anni 90, insomma la mia speranza è che si ritorni indietro nel tempo, anche se sembra impossibile. Anche alle donne piacciono i due tempi. Certo, due o quattro tempi, basta che siano termici. Basta che facciano? No, elettrico. Basta che facciano rumore e che vadano veloci. Grazie Elisa. Prego. Allo stand Hollins trovate questa Screaming Eagle, un Harley Davidson completamente modificata per correre. Perché in America con questi ci corrono e fanno anche delle signori gare. Stand Yamaha, nuova Treser 9 GT Plus. Finirà che ci metteranno le nomenclature come sugli iPhone. Ve la faccio vedere da qui perché è arrivato il nuovo televisore. È il nuovo schermo TFT da 7 pollici. È praticamente molto simile rispetto a quello che avevamo visto nel T-Max 2022. Beh, Yamaha ci ha ascoltato. Arrivano funzioni di navigazione, si possono leggere i messaggi, si possono leggere addirittura le email, ma soprattutto le funzioni di navigazione complete. Non avete più bisogno di acquistare un navigatore a parte perché tramite servizio Garmin potete vedere la mappa direttamente dal display della vostra moto. Questa è forse la più grande novità della Treser 9 GT Plus insieme al radar. Arriva anche la frenata combinata per il freno anteriore e posteriore che funziona ovviamente in concomitanza con il radar. E ovviamente abbiamo dei nuovi blocchetti che spero poi di mostrarvi nel test ride completo che sicuramente arriverà. Molto bella peraltro questa colorazione bianca perlata. Sotto la luce ha un effetto bellissimo. Schermo TFT da 5 pollici per la nuova Treser 7 e Treser 7 GT. Aggiornamento col TFT anche per tutta la gamma Tenere 700, 700 Rally e 700 World Ride che già ce l'aveva. E aggiornamento TFT anche per la nuova MT07 2022. L'unica che ne è rimasta senza quindi sì con un TFT peraltro molto piccolo a 3,5 pollici ma senza funzioni di connettività è la MT09 qui in versione SP. E stranamente anche sulla MT10. Beh magari Yamaha pensa che il TFT più grande non è necessario su queste moto. Chi lo sa o magari lo vedremo in futuro. Yamaha MotoGP di Quartararo. Allo stand di CFMoto arriva la nuova 450R. Una sportivetta di media cilindrata davvero molto interessante. C'ha già i semi manubri anche se sono rialzati ed è molto molto carina a vederla dal vivo. Allo stand Benelli si notano 6 novità coperte da telo. Finalmente è arrivata la TRK-800. Sì vi confermo che dovrebbe essere proprio qui sotto questo telo. Ma la TRK-800 arriva accompagnata da altre alternative tra cui una TRK-702 di cui ancora non si sa nulla. Non appena alzeranno i veli vi aggiornerò un po'. Non hanno ancora usato la Benelli TRK-800 ma sappiamo benissimo che Benelli è gestita dal gruppo QJ Group. E questa è la QJ-800. Motore quindi 800 bicilindrico. C'è un grandissimo TFT nella parte anteriore. Ci sono anche le prese USB. Le sospensioni e le forcelle sembrano regolabili. Ampia seduta. Insomma bene o male questo è ciò che possiamo aspettarci dalla Benelli TRK-800. Potenza 56 kW e coppia di 76 Nm. Particolarità c'è un impianto frenante completamente brezzo. Sempre sabato ma al mattino dalle 11 alle 13 mi troverete invece qui allo stand di Pandomoto che è praticamente di fianco allo stand di Benelli. Quindi non mancate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci sarete. Allo stand Moto Morini trovate dietro di me le bellissime 6.5 STR ed SCR. Quindi standard e scrambler. Entrambe con fermatura da 18 pollici. E dietro allo stand Suzuki debuttano due grandissime novità. Beh prima di tutto la piattaforma 800 che viene implementata in due nuove moto. la V-Strom 800 DE che ospita un bicilindrico con potenza di 83 CV e manovellismo a 270 gradi e la nuova Naked Media ovvero la GSX-8S. Design ripresi dal nuovo corso stilistico di Suzuki? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. A me convincono tantissimo e spero anche di poterci fare un bel test ride. Ovviamente Ecma è anche incontrare vari amici. Lui ha anche un canale YouTube, una pagina Facebook molto seguita per cui è andatelo a seguire. È molto turismo italiano. Guarda com'è su caldo. Cico ci conosciamo dal, se vogliamo fare un riferimento da NERD, dall'8700K. Esatto, esatto, dagli albori. Ovviamente Ecma è anche incontrare degli amici. Seguitelo su YouTube ovviamente. Allo stand Brixton c'è anche la nuova Cromwell 1200. Una Scramble moderna con 83 cavalli e ben 108 Nm di coppia. È un prezzo decisamente accessibile. Linee classiche. A me Brixton è un marchio che piace particolarmente perché riesce a fare moto molto interessanti sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista tecnico ma anche decisamente abbordabili. Quindi venite a vederle. Tra l'altro c'è la gamma completa con 125, 250 e anche 500. Passiamo adesso allo stand Aprilia, gruppo Piaggio. Quindi Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio. Il tuo anno V4, chissà che sostituisca la F900 XR. Ovviamente il Touareg. RS 660 Trofeo. Ed RS V4 X3. Grande protagonista ovviamente la nuova Moto Guzzi V100 Mandello. In questa edizione speciale fatta per la Marina Militare. Con questa colorazione grigio opaco davvero molto bello. Guardate le alette aerolettriche e anche il cupolino elettronico. Eccoci, lo stand è Kawasaki. Kawasaki mostra a ECMA due moto elettriche e un concept ibrido in grado di passare velocemente dal motore termico al motore ibrido che probabilmente vedremo in commercio già a partire dal 2024. Quindi la Casa Verde prende una svolta decisamente green. Cosa vi aspettate da questo ECMA? Beh, di sicuro sarà una nuova esperienza, una bella esperienza speriamo, di conoscere nuove persone e il mondo delle moto. Mi hai rubato le parole, considero ECMA sicuramente un'esperienza nuova, per me è la prima volta qui e ci sono sicuramente tante cose nuove da conoscere. Vi piace il mondo delle moto? Sì, ho un po' paura, però mi piacciono le moto. Assolutamente sì, ma come passeggera. Come vi chiamate su Instagram? Federica Dottor. Beatrice Pivetta. Spero di avervi portato tutto ciò che volevate vedere. Ovviamente non riesco a farvi vedere ogni singolo stand, ogni singola novità, ma spero almeno di avervi aggiornato sulle novità più interessanti e di aver scosso la vostra curiosità. Anche quest'anno purtroppo BMW, KTM e Harley Davidson non sono presenti. Grande assente anche M&V Augusta, che però presenta qualcosa a Milano. Se venite sabato ci vediamo agli stand di Pando Moto al mattino e a quello di SVMotec nel pomeriggio. Iscrivetevi al canale e alla prossima!